Buongiorno A Firenze Marathon sono previsti provvedimenti alla circolazione con deviazioni al trasporto pubblico. Per tutte le informazioni potete consultare i nostri canali social. Per la giornata di oggi, dalle 9 alle 15, stato proclamato uno sciopero del personale di Trenitalia, la circolazione subirà delle variazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!